Popolo Rosso Nero, amici di Youtube, benvenuti al Benzinero Stadium. Raga, oggi voglio fare un video scomodo, un video che molti non fanno, perché non sono video strappa like, strappa iscrizioni, sono video anzi che ti espongono personalmente anche a molte critiche, ma siccome molti di voi mi hanno chiesto di esporsi e di dire la mia sul fondo Elliot, ne voglio assolutamente parlare, è un'idea personale che può andare anche in contrasto con le vostre idee, ci sono i commenti sotto i video appunto per parlarne tranquillamente, perché la mia idea non deve per forza essere uguale alla vostra. Detto questo raga, iscrivetevi al canale, campanella di aggiornamenti e lasciate un pollice in su per il Benzinero. Voglio ringraziare davvero tanto ServSport86 per la live di ieri, è sempre fantastico stare con lui e con tutti voi che ci avete seguito. Non parlo di fine mercato semplicemente per il fatto che, come è andato il fine mercato, lo diranno i risultati da qui fino a fine stagione. La società ha deciso e ha scelto e ha pensato che la rosa attuale era già competitiva per portare a casa il campionato o la Coppa Italia. Noi tifosi invece volevamo qualcosa di più, a fine campionato si tirano le somme, il campionato non mente. Perché se poi arriviamo a fine campionato e facciamo anche quest'anno zero titoli e guardiamo gli altri come vincono, è giusto che noi siamo incazzati. Se invece vinciamo come quello che io comunque credo ancora, allora avrà ragione la società che non ha buttato soldi al vento. Per quanto riguarda la famiglia Elliot, io ho sempre avuto lo stesso pensiero e lo stesso punto di vista. Il fondo Elliot prende il Milan dai cinesi ma già sapeva che avrebbe preso il Milan dai cinesi perché un fondo importante come il fondo Elliot già sapeva che quei cinesi erano farlocchi, erano dei qua qua da qua, quindi già sapeva che brand stava andando ad acquistare e che tifosi aveva questa società. Quindi non si può nascondere. Il fondo Elliot, di positivo, perché iniziamo dalle cose positive, ci ha ridato credibilità a livello mondiale perché l'anno dei cinesi siamo diventati la barzelletta d'Italia. Quindi di positivo ci ha dato solo la credibilità che comunque è importante. Ma il fondo Elliot ha preso il Milan e sta usando il Milan e la parola usando è inazzettabile perché nessuno può permettersi di usare il Milan a fondo e a scopo di lucro per farci un guadagno personale. Al fondo Elliot del Milan non gliene fotte un cazzo. A lui di vincere, di far vincere, di far gioire i tifosi non gliene fotte un cazzo. Lui vuole portare semplicemente i bilanci a zero, vuole lo stadio di proprietà e lo vuole ottenere in qualsiasi modo indipendentemente che il Milan vinca o che il Milan perda lui del Milan non gli importa non viene mai allo stadio non viene mai a tifare i ragazzi non bussa mai in Lega quando il Milan viene trattato di merda sia in Europa che in Italia. Non c'è, è un presidente inesistente è anche questo inaccettabile noi vogliamo un presidente che ami il Milan. Poi io lo dico sempre raga noi tifosi dobbiamo imparare a tifare il Milan non i presidenti. Io vedere che si sostiene un fondo che del Milan non gliene frega niente un fondo che usa il Milan a scopo di lucro perché lo sappiamo tutti che quando otterrà quello che vuole ci venderà al miglior offerente per guadagnarci lui. Il falso mito che il fondo Elliot ci ha salvato dal fallimento è una stronzata colossale perché il Milan si salva da solo non ha bisogno del fondo Elliot perché il Milan è un brand che anche se non c'era il fondo Elliot sarebbe arrivato qualsiasi alta grande proprietà a prendere il Milan. Il fondo Elliot si è ingolosito del brand del Milan è andato a salvare giusto il suo capitale che aveva prestato ai cinesi e vuole guadagnarci il più possibile e chi dice il contrario c'ha le fette di salame io non prendo soldi dalla società sono libero da queste cose perché davvero io tifo solo il Milan. Poi ci sono quelli che dicono perché Maldini non si dimette da questa società che non ha ambizioni di vittoria raga ringraziate il padre eterno che ci sia su Maldini perché almeno Maldini funge da garante per noi tifosi perché se non ci fosse Maldini poi vediamo che dirigente arriva invece io con Maldini mi sento sicuro io appoggio la mia dirigenza appoggio la mia squadra appoggio anche il mio allenatore perché da oggi in poi dopo questo mercato io non insulto Pioli perché Pioli sta fungendo da parafulmine ma Pioli nonostante io dico che un allenatore con i controcoglioni un difensore se lo faceva arrivare a gennaio Pioli sta facendo miracoli con la squadra che ha come Maldini ha fatto miracoli con i soldi che gli sono stati dati a disposizione dal fondo Eliott quindi a me il fondo Eliott sinceramente non mi rappresenta ma non mi rappresenta perché per colpa sua perché non ama il Milan poi se vinciamo qualcosa faccio i complimenti a Maldini per il miracolo sportivo ai ragazzi e al nostro allenatore ma che il fondo Eliott usi il Milan è sotto gli occhi di tutti che il fondo Eliott voglia guadagnare alle spalle del Milan è sotto gli occhi di tutti non gli importa neanche di perdere i giocatori a zero non gliene frega l'importante è che il montengazzo si abbassi che invece le entrate dagli sponsor si aumentino ma i bilanci si possono anche azzerare costruendo una squadra che passi il turno di Champions perché se passi il turno di Champions ti arrivano 30 milioni in più prendendo il grande nome perché il grande nome porta sponsor vincendo il campionato perché se vinci il campionato gli sponsor ha una squadra vincente gli danno molti più soldi perché è sotto gli occhi di tutti che la Juventus guadagni 100-150 milioni di più a stagione del Milan quindi facendo queste cose non non solo abbassando 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 quindi raga questo in parole povere magari sicuramente mi sono dimenticato qualcosa è il mio pensiero del fondo Elliot detto questo il fondo Elliot è una società solida quindi non siamo in cattive mani però chi sogna un ciclo vincente con Elliot secondo me si illude io lo spero ma sarebbe un ciclo vincente con Maldini sempre forza Milan ditemi la vostra pollice su al benzinero un ciclo un ciclo un ciclo